Di nuovo mattina 9 e adesso parliamo di teatro. Questa sera sarà messo in scena uno spettacolo molto interessante incentrato sulla bellissima figura di Lucia Migliaccio, la nobile donna siciliana che fece innamorare il re Ferdinando I, il re delle due Sicilie. Ad interpretarlo c'è qui con noi l'attrice, diamo il buongiorno ad Antonella Romano, uno spettacolo scritto da Massimo Andrei. Buongiorno, ben trovata mattina 9. Dunque, questa sera si porterà in scena questa figura recente che ha fatto la storia recente della nostra Napoli, del regno delle due Sicilie. Che effetto fa interpretare una nobile donna siciliana di grande rispetto? Allora, c'è da dire che io ho incontrato Lucia Migliaccio per un progetto nato dal pensiero di Giulio Baffi, dove praticamente dava a ogni attore un monumento e un attore avrebbe dovuto creare una storia sul monumento. E a me fu dato il Museo della Seta di San Leuscio, creato da Ferdinando IV. E nel ricercare il tutto ho incontrato lei, ho incontrato Lucia Migliaccio, la favorita. Da lì nasce tutta la storia poi di Lucia e questo spettacolo bellissimo di lei, su questa donna. Una donna, come dicevi, che nasce duchessa, vive principessa, muore regina. A questo punto la difficoltà, ti chiederei, che è riscontrato da un punto di vista proprio recitativo, tecnico, sulla scena, per interpretare. Sì, un personaggio, ma forse un personaggio triplice a questo punto di vista. Sì, lei è carina perché dice nasce duchessa, perché lei è duchessa di Floridia. Lei viene da Siracusa e Floridia è un paese vicinissimo a Siracusa. Poi a 11 anni viene data in moglie al principe di Partanna, quindi diventa principessa contro la sua volontà. E poi alla fine diventa regina morganatica, ma per amore, diciamo così. Sì, perché in realtà questo è un matrimonio morganatico, nel senso che lei non diventerà mai regina per l'impossibilità. Sì, perché non ha lo stesso rango del re, e quindi per questo è morganatica, ma lei dà amore al re, a differenza di Maria Carolina. A differenza di Maria Carolina d'Austria, perché lei è la prima moglie di Ferdinando, e diciamo anche che poi sortì anche un grande scandalo, questo matrimonio, perché a due mesi dalla morte di Carolina, lui decide, Ferdinando, di sposare, comunque creando lo scandalo tra sudditi e anche nobili. Poi a quei tempi, insomma, era... A quei tempi, è molto attuale, possiamo dire. È attualissima, sì, anche perché poi c'è questa cosa strana, lei aveva 44 anni quando sposa Ferdinando. Un po' più grande, lui era più grande. Quindi nemmeno una giovincela, all'epoca sarebbe stata come oggi una sessantenne, praticamente. Anche di più, anche 70. Ha detto? Sì, perché all'epoca praticamente una di 44 anni, insomma, è abbastanza avanti con l'età. Diciamo anche che la storia di questa donna ripercorre un po' le tracce, anzi, lo fa, piazzando bene i piedi a terra del Regno delle Due Sicilie, quindi una storia che si, come dire, contamina anche del territorio locale, quindi che viaggia di pari passo, un po' un'antropomorfizzazione della storia del Regno delle Due Sicilie. Ma sicuramente, comunque in questo spettacolo che si parla anche della storia, sicuramente, ma attraverso, come possiamo dire a Napoli, degli aneddoti, l'inciuscio, diciamo così, aristocratico. Gli inciuscio aristocratici. Ti si è accesa una lampadina. Sì, sì, voglio conoscere qualche inciuscio aristocratico. Sappiamo che lei sicuramente era dolcissima, tra l'altro lei era amatissima anche dai poeti di corte che le dedicavano comunque delle frasi, le dedicavano delle poesie dallo stesso Ferdinando a cui piaceva apperlarla con il nome mia cara, mia bella, Lucia, questi occhi sempre incantevoli che si immergerono. Ma infatti c'è una... ci sono dei versi che le sono stati dedicati, questo è un inciuscio, che le sono stati dedicati da questo poeta siciliano e si chiama proprio Occhiuzziniore, no? E lei praticamente dice che questi versi a cui non aveva dato tanto peso sono stati poi in seguito tradotti in tedesco da Goethe. Da Goethe, sì, è vero. E allora lei all'inizio dice ma io manco gli avevo dato tanto peso a questo qua. Ma poi addirittura Wolfgang Goethe... Decide di traduire i suoi versi. Ma com'era? Uno a caso poi. Uno a caso, è capito? Com'era Lucia? Sicuramente dolce e diversa da Carolina, ma nell'intimo, nel senso che nella vita, nel vissuto quotidiano, anche con i sudditi, com'era? Lei sicuramente era molto aperta. Cioè era dolcissima, non so, ma una persona ecco... Moderna potremmo dire. Moderna, anche perché lei dice bellissimo. Io spero che insomma qualcuno di voi venga a vedere lo spettacolo. Un po' ne stiamo già assaporando qualcosa adesso in diretta. Ti vedo già nel personaggio, la vedo felice, contenta, è già nell'epoca. No, perché ecco, lei era una persona felice, contenta, aperta, no? Mai buia, cioè mai chiusa. E rivoluzionaria. Sì, anche nel vestire, no? Dice che lei va sempre molto scollacciata e viene molto criticata per tutto ciò. Dice dei suoi abiti succinti. E dice, ma è così che si usa per chi segue le belle maniere, la moda di Parigi. Lei era una molto alla... Una donna dai vasti talenti, così viene descritta. E potremmo forse dire, se mi consente, una rivoluzionaria quindi del tempo. Anche, anche, anche. E lei dice una cosa anche molto bella, che quando Ferdinando la presenta ai nobili e ad altri sudditi, viene molto accettata, viene molto... Era ben voluta, era amata da tutti. E Ferdinando amava anche il fatto che lei potesse portargli fortuna, bene. Ma infatti è questo amore che è interessante. È questo amore che loro infatti staranno insieme per tutta la vita. Sì, fino alla morte. Lei morirà, mi sembra, dopo poco, poco dopo, dopo un annetto, lei morirà. Sì, qualche anno dopo. E però da questa unione, da questo matrimonio, non nasceranno dei figli. Non ci saranno figli, però si ricorda di questo profondo amore tra i due. Tant'è vero, un amore possiamo dire che, alla maniera poi di Ferdinando, viene anche rappresentato attraverso la dedica della villa, della collina del pomero che inizialmente era tutta agricola e poi all'interno viene anche costruita questa villa in stile mio classico, la posizionata della villa floridiana. E questo è per esempio un qualcosa che dobbiamo regalare al nostro pubblico, perché poi non tutti sanno questa informazione, non tutti conoscono che la villa floridiana in realtà è dedicata a Lucia Migliaccio. È un dono, dato, un dono di Ferdinando per lei. Lucia che nella coppia comandava assolutamente, questo ce lo puoi dire come aneddoto? Tu dici che comandava? Secondo me sì. Lei lo lascia molto fare. Beh, questa grande personalità, questa donna così rivoluzionaria, in genere è così nella storia. Lei era molto, secondo me, rivoluzionaria, ribelle, ma molto intelligente, perché poi Ferdinando viene nominato il re Lazzarone, quindi comunque anche lui non è che aveva un grandissimo epiteto, comunque gli piaceva la notte uscire, magari essere un po' molleno, però lei invece sapeva tenerlo a bada. Sì, lei proprio su questo dice, io a differenza della prima moglie che lo tormentava per tutto quello che le combinava. Ma lei era intelligente? Sì, io lo lascio tranquillo, so cosa, perché tanto prima o poi io lo vengo a sapere. Che sia dell'avventuriera, della cantante, io so tutto, e quindi cerco di lasciarlo stare, lasciarlo andare, ma poi so cosa deve fare. Placati dai tuoi inciuci, Antonella, adesso, stai inciuciando troppo adesso. Senti, sì, stavamo dicendo che seguirà anche una cena. Sì, esatto, esatto, uno spettacolo, diciamo, che vi ripercorrerà e ci farà innamorare di questo bellissimo periodo storico, quindi ci ricondurrà al tempo del regno delle due Sicilie, ma uno spettacolo molto goloso, come dicevi anche tu, Claudio, perché ci sarà una cena posto spettacolo. Sì, ed è anche a tema, quindi chi arriverà assaggerà qualcosa di molto, molto buono. E quindi a tema che vuol dire? Cioè pietanze siciliane. Ah, siciliane. E beh, lei è siciliana e ha anche pietanze napoletane, quindi... C'è questo matrimonio, Napoli e Sicilia. Allora, ricordiamo, quindi lo spettacolo alle 20 e 30? E alle 21 puntuali. 20 e 30 devono essere lì. 20 e 30 dovranno essere lì. A Villa di Donato. A Villa di Donato, questa meravigliosa villa. Altrimenti non cenate perché finisce tutto prima, no? No, 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 no. A cena se ci sarà dopo, dopo, dopo. Lucia Migliaccio ha scritto da Massimo Andrei, che salutiamo. Che salutiamo, a cui io tengo molto. Bravo Massimo. Bravissimo Massimo. Perché ha reso così fruibile, così alla portata, questo personaggio fresco. Un personaggio fresco, è attuale. Beh, è un po' lui anche così, no? Perché lui è molto... È geniale, è geniale la capacità, ecco, di far arrivare in maniera diretta, simpatica, attraverso il racconto. Attraverso proprio il trasmettere un sentimento d'amore. Ma Antonella quanto ha di Lucia? Abbastanza, abbastanza. Grazie allora ad Antonella Romano, una splendida attrice che interpreterà il personaggio di Lucia Migliaccio, questa donna rivoluzionaria che ha un po' raccontato la storia del Regno delle Due Sicilie. Complimenti, veramente complimenti. Brevissimo spazio pubblicitario e poi di nuovo nel salotto di mattina 9.